Oltre 7500 studenti riminesi si iscrivono ogni anno ad un corso universitario, 1362 quelli che si sono laureati nel 2011, il 25% dei quali nel polo di Via Angherà. Tra le aree prescelte svetta quella tecnico-scientifica con le facoltà di ingegneria, medicina e chirurgia, 5859 ragazzi iscritti al polo universitario riminese, il 34,3% dei quali risiede in provincia. Sono solo alcuni dei dati contenuti nell'undicesimo osservatorio sull'istituzione universitaria nel riminese presentato dall'ufficio statistica di Corso d'Augusto. Nesce uno spaccato variegato dell'insegnamento e del futuro dei nostri giovani. La provincia di Rimini ha negli anni investito nell'università in modo rilevante, credendoci e portando a Rimini comunque una formazione universitaria di buon rilievo, con economia e commercio, farmacia, moda ed altre facoltà. Ultima, ma non per ultima, è comunque anche molto attuale in ordine ai bisogni sociali, è quello delle scienze infermieristiche, di cui la conduzione e la direzione è stata recentemente sottratta a Rimini per riportarla a Bologna. Questo è un motivo di preoccupazione perché, come è noto, il futuro di una insistenza di un polo in una città è funzione del numero dei docenti incardinati all'interno di questo distaccamento di polo. Questo ovviamente preoccupa, preoccupa che la stratificazione degli investimenti rimanga nella città, preoccupa il fatto che il 7% dei riminesi compone il corpo studente dell'Università di Bologna, ma che invece è per contro a un solo dipartimento, quello di Scienza della Qualità della Vita, intorno al quale, ricordiamoci, con la gel mini ruota quello che è la centralità delle decisioni formative e, insieme ad avere un solo dipartimento, gli viene sottratto all'accosto la probabilmente più importante, una delle più importanti, che era quella delle scienze infermieristiche. Di qui la preoccupazione, credo che chi verrà dopo la provincia sarà ugualmente attento, in un qualche modo, a garantire al territorio la stessa possibilità di sviluppo in ambito universitario. Sono sicuro che l'Università, l'Alma Mater e che la Regione saranno attenti a proseguire questo investimento che è stato fatto nel territorio.